Ciao, mi chiamo Patriot, ho 19 anni, sono di origine albanese, sono venuto qua in Italia, sono qua da tre anni. Il vero motivo che sono venuto qua in Italia era quello di seguire i miei sogni, quello che poteva veramente migliorare la mia vita, cioè per la cosa primaria era lo sport che adesso non lo sto facendo più e ho deciso di continuare la scuola. Ho seguito la scuola, nello stesso tempo ho migliorato l'italiano e tutto quanto e ho finito la terza dalla scuola Mazzini da Vinci, l'Ipsia, come elettrico, operatore elettrico. Poi il mio sogno non è finire qua ma andare oltre. Lo Sprar mi sta aiutando, mi sta sopportando con tutto ciò che può e io sono veramente contento e mi permetto che darò tutto ciò che posso per continuare questo sia per me stesso ma anche per loro che mi vogliono bene e che mi stanno sopportando.